che amo ragazzi ma ci rendiamo conto cosa ci ha portato la Roma di quest'anno a fare ad essere quasi contenti di un gol della Lazio negli ultimi minuti contro il Milan è un pareggio che ci fa sicuramente sorridere per modo di dire perché comunque entrambe le squadre si fermano con un solo punto in più vanno entrambe più avanti però poteva andarci sinceramente peggio non lo meritavamo assolutamente assolutamente perché per come stiamo giocando adesso meritiamo di essere ancora più in giù però abbiamo avuto una botta di culo e sinceramente io non la butto via il campionato è ancora lungo siamo a meno 3 dalla Lazio che è quarta in classifica quindi sostanzialmente dai poteva andare molto peggio comunque parlando specificatamente della partita è stata una partita bella da vedere una partita molto equilibrata con alcuni sprazzi di Milan e un sostanziale bel gioco della Lazio anche se è calata molto nella ripresa l'unica cosa voglio partire proprio dalla cosa più negativa della partita è la polemica la continua polemica su ogni minima azione ogni minimo contatti in aria è rigore ogni minima sferata è mano è fiato cioè io alla fine degli episodi che ho visto non ce n'è uno in cui l'arbitro ha sbagliato secondo me tutte le decisioni che ha preso sono state giuste nulla da dire sicuramente i Laziali adesso che usciranno dallo stadio diranno è arbitro incompetente perché comunque dallo stadio non è la stessa visibilità di uno che la vede in tv con miller e play ma fidatevi almeno a parer mio l'arbitro non ha sbagliato nulla magari può aver sbagliato nel dare qualche fallo nel lasciar correre ogni tanto ma a livello di occasioni effettive di falli di mano non c'era mai nulla non c'è mai stato nulla né da una parte né dall'altra quindi arbitraggio per me assolutamente sufficiente se si fossero lamentati di meno probabilmente si sarebbe visto ancora di più spettacoli invece ho dovuto assistere a scene come in zaghi che all'ultimo minuto viene cacciato da Banti Banti mi pare sì e dice no io non scappo io non scappo io non scappo con conseguente scivolata subito dopo ma quello ovviamente è un episodio fortuito ho dovuto assistere a scene come immobile che riceve una palla dopo un tocco in aria e invece di andare all'interno per continuare l'azione si è alzato così per dire oh è fallo è fallo ma gioca no cioè questo non lo dico perché è immobile ma cazzarola ma se l'albitro non fischia tu gioca poi magari se c'è il fallo di mano lo vedranno col VAR ma mentre tu stai giocando non puoi fermarti quasi fermarti per dire eh no è fallo è fallo ma fai fare il lavoro a chi deve farlo e tu pensa a segnare a fare quello che devi fare comunque parlando effettivamente del risultato finale è un pareggio giusto sostanzialmente probabilmente a livello di gioco ha anche giocato meglio la Lazio è forte di un valore tecnico sicuramente superiore in virtù delle tante defezioni della squadra rossonera io vi dico la verità se il Milan avesse vinto avrei intitolato questo video impresa rossonera perché riuscire a vincere poi ovviamente hanno pareggiato ma comunque riuscire a portare a casa un risultato positivo in casa della Lazio e con defezioni che ti hanno portato a giocare con la difesa tre con Abate Zapata e Rodriguez di cui due appunto che sono tersini veramente cioè tu hai avuto tutte queste defezioni in difesa a centrocampo in attacco eppure il Milan non mi è dispiaciuto certo in alcuni frangenti soprattutto agli inizi dei tempi ha subito molto la pressione della Lazio che qualitativamente era superiore e con giocatori del calibro di Luis Alberto immobile poi con un correa che poi ha trovato anche la via del gol ha fatto vedere di essere superiore in questo momento però il Milan non si è disunito pur sapendo di essere inferiore tecnicamente ci ha provato con tanti passeggi e una discreta manovra di gioco effettivamente poi il gol è fortuito perché l'azione è bella però il tiro di Chessi viene eseguito da un'evidente deviazione di Wallace tra l'altro a me pare che la palla proprio neanche andava in porta quindi è a tutti gli effetti autogol del difensore ovviamente fortuito e poi all'ultimo minuto la Lazio è riuscita a trovare il meritato pareggio con un bel destro di Correa che si dimostra ancora una volta la zanzarina che dà sempre fastidio cioè tu lo metti sempre nella ripresa e qualcosa di buono te lo riesce quasi sempre a fare all'inizio non avevo capito molto bene il cambio di Inzaghi perché in una situazione in cui devi attaccare mi togli Luis Alberto ha fatto Emelinkovic-Savic per mettere Correa e Lukaku non l'ho vista una scelta molto felice però alla fine visto che Correa appunto ha trovato il gol penso che sotto questo punto di vista abbia ragione lui però a livello caratteriale continua a starmi antipatico ma lo ripeto non perché è allenatore della Lazio ma perché ha certi atteggiamenti che te lo fanno proprio diventare antipatico cioè sempre polemico si lamenta di continuo ogni minima cosa non va bene questo è una volta tra l'altro vai a dire all'albero no io non esco io non esco ma dai è un carattere che a me non piace poi si poteva chiamare pure chi ti pare poteva allenare qualunque squadra ma a me personalmente non sta simpatico anche per questi atteggiamenti il Milan ha fatto la sua onesta partita la Lazio ha da recriminarsi un po' il non essere stata concreta quando doveva esserlo cioè è andata bene che sono riuscito a segnare la fine però la Lazio poteva mostrare prima la sua superiorità tecnica in campo invece ha dovuto soffrire fino alla fine se non fosse stato per un bel destro di Correa avrebbero anche perso in casa l'ennesimo scontro diretto con una diretta avversaria scusate le ripetizioni perché finora li aveva persi tutti con Roma Inter Juve Napoli eccetera eccetera è arrivato questo pareggio con il Milan che fa bene diciamo ad entrambe perché non permette a nessuna di andare via ma neanche a nessuna di arretrare quindi è un pareggio sostanzialmente giusto che fa bene a tutti noi compresi lo ripeto non ce lo meritiamo perché per come stiamo giocando attualmente meritiamo di andare ancora più sotto in classifica però se ogni tanto abbiamo una botta di culo approfittiamone e basta o poi magari più avanti avremo modo di rimpiangere i punti persi come già stiamo facendo finora però se possiamo approfittare dei passi falsi dei nostri avversari è sicuramente una cosa positiva penso di aver detto praticamente tutto ragazzi allora quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Lazio-Milan 1 a 1 ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi ciao